Allora, nel corso delle nostre lezioni ci siamo imbattuti spesso in due categorie nicciane, quella di Apollinio e quella di Dionisiaco, che noi abbiamo anche definito classico e anticlassico, e abbiamo detto molte volte che ad una tendenza artistica, che di solito è una tendenza anche di gusto, segue generalmente una tendenza di segno opposto. È quasi naturale, quindi noi abbiamo queste due tendenze, classico e anticlassico, che percorrono due binari paralleli, ma che nel corso del tempo vedono prevalere un aspetto o l'altro aspetto. Usciamo in questo momento da un contesto di tipo neoclassico, vedremo nelle prossime lezioni come questo neoclassicismo coltiva già in sé l'antidoto alla sua razionalità e si aprirà quindi ad una stagione completamente diversa, che è quella del pre-romanticismo e poi ovviamente del romanticismo. L'estetica del pittoresco e del sublime, che si sviluppa proprio all'interno del contesto neoclassico, è uno degli esempi più chiari di questo andamento. Mentre si diffonde e si codifica la teoria del bello ideale, contemporaneamente all'interno di questo contesto neoclassico sono già presenti una serie di fermenti di segno opposto. E non mi riferisco in particolare a episodi come quello di Angra che abbiamo già affrontato e che hanno sicuramente una serie di spunti che ci fanno pensare a ciò che verrà dopo. Angra è un pittore assolutamente neoclassico e resta un pittore neoclassico. Non mi riferisco a situazioni dove artisti che vivono in un contesto pienamente neoclassico si svincolano da questo contesto per analizzare situazioni diverse. E in questo senso ci sarà una riflessione sulla natura libera e individuale dell'uomo, sul rapporto dell'uomo con questa natura libera e individuale, sulle emozioni che questo rapporto può suscitare, soprattutto sulla libertà creativa che è una libertà che si esplica nel sentimento, nella spontaneità, nella passione, tutti elementi che evidentemente sono contrari all'idea di canone, di regola, di equilibrio formale, di compostezza, tutto ciò che era tipico della razionalità del secolo dei lumi, pensiamo all'idea di nobile semplicità e di quieta grandezza. Tutti elementi che evidentemente derivano dalla società perché l'arte non è che uno specchio della società e quindi tutta una serie di elementi politici e sociali che avevano portato all'affermazione del neoclassicismo porteranno in questo caso alla sua dissoluzione, al contrasto a certe idee neoclassiche. Pensiamo alla delusione per il cadere degli ideali rivoluzionari, per la restaurazione, quindi in qualche modo una fiducia tradita nei confronti della chiarezza di un metodo più scientifico, potremmo dire la fiducia nel progresso delle scienze, l'idea che seguendo una regola si sarebbe arrivati sicuramente a un risultato, una regola che impone e cerca di mettere in rilievo tutto ciò che è misurabile, tutto ciò che è finito e quindi come contrasto si ricomincerà ad analizzare l'interiorità della figura umana, tutto ciò che è infinito, tutto ciò che è incommensurabile, tutto ciò che è oscuro, che è misterioso, che comunque in qualche modo non può essere inserito all'interno appunto di una regola ben precisa. Siamo nel secondo settecento, in area tedesca nasce il movimento dello Sturm und Drang che esalta evidentemente il valore assoluto della passione, la libertà creativa, quindi una forma di conoscenza che si libera dei vincoli, delle catene, dei lacci di una struttura preordinata e che riesce a indagare qualcosa di nuovo, di ignoto, di indefinito, di oscuro. Nello stesso periodo succede più o meno la stessa cosa in Inghilterra, si comincia a celebrare il valore dell'emozione come spinta alla creazione artistica e nascono queste due categorie filosofiche, estetiche del pittoresco e del sublime che saranno fondamentali perché innerveranno di sé tutta la poetica e la ricerca romantica. Per pittoresco, per dirlo in maniera molto semplice, molto breve, si intende tutto ciò che è degno di essere dipinto ma perché spontaneo, perché selvaggio, perché libero e quindi in qualche modo quello che interessa è la capacità della natura, di una natura libera, di suggestionare l'osservatore. Evidentemente si passa da un'estetica dell'uomo, dell'essere umano e degli ambienti umanizzati, perché il mondo classico mette l'uomo al centro dell'universo, ad un'estetica che si interessa di più della natura perché la natura è più spontanea e più pulita, potremmo dire in qualche modo proprio perché è in grado di suggestionare i sentimenti. Quindi il pittoresco è tutto ciò che è grandioso, spettacolare, la natura solitaria. Forse anche più importante è l'idea di sublime. Nel 1756 Edmund Burke pubblica la ricerca filosofica sull'origine delle idee del bello e del sublime ed esalta la componente più tenebrosa, più oscura, più passionale della natura. Cioè quello che stabilisce, quello che ci dice che il terrore è la causa efficiente del sublime. Il sublime è scatenato dal terrore che però è un terrore dal quale noi siamo attratti, una sorta di orrore che mentre ci atterrisce dice ci attrae e ci affascina. Di cosa sto parlando? Evidentemente di una natura sconfinata, non lo so, dell'altezza vertiginosa dei monti, dell'abisso incommensurabile, dell'infinità del paesaggio, dell'orizzonte o della distesa marina o per esempio della potenza delle cascate o di tutto ciò che è lo sconvolgimento naturale, l'eluzione vulcanica, il tuono, il fulmine, il lampo, il terremoto, la tempesta. Cioè tutto ciò che non può essere in nessun modo inserito all'interno di una regola previsto e addomesticato potremmo dire, tutto ciò che è in antitesi con la chiarezza, con la regola, la proporzione, tutto ciò che esprime incompiutezza e imprevedibilità che sfugge alle regole. Un'estetica completamente nuova che è un'estetica del disarmonico, dello scuro e dello smisurato ma noi concentriamoci sull'idea del disarmonico se pensiamo a quello che era accaduto subito prima con il neoclassicismo, un'estetica dell'armonia, della misura, della razionalità, dell'equilibrio contro ora un'estetica del disarmonico, ciò che è esattamente il contrario di ciò che abbiamo detto fino a questo momento. Parleremo di artisti come Fius, Di Goya e Blake che stanno a cavallo fra queste due tendenze, due tendenze artistiche, estetiche e filosofiche, un po' come era successo in letteratura per esempio a Ugo Foscolo. Voi sicuramente avete fatto studiando letteratura italiana e il sonente di Foscolo avrete visto che a fronte di una struttura e di un'ambientazione completamente classica, mentazzacinto, noi abbiamo dei temi che però sono assolutamente romantici quindi degli artisti che rimangono, riescono, stanno a cavallo e aprono già la porta. Per questo si parla di pre-romanticismo e non di romanticismo in senso compiuto. Due movimenti assolutamente antitetici, quello del neoclassicismo e quello del romanticismo, che vedono una fase di sovrapposizione e che si scambiano accuse spesso, anzi sempre ingiuste. Consideriamo che così come il romanticismo non è deforme, il primo di senso è quello che dicevano gli artisti neoclassici, il neoclassicismo non è un freddo catalogo, diciamo così, di imitazione dell'arte greco-romana e antica, che è quello invece di cui lo accusavano gli artisti romantici. Quello che è sicuramente vero per seguire, diciamo, un'intuizione del saggio fondamentale di Marcello Pagnini, i contesti culturali della letteratura inglese e del romanticismo, che se funziona per la letteratura funziona come succede praticamente sempre anche per le arti figurative, trattandosi di due elementi di tipo antitetico, potremmo trovare una serie di termini, di questioni antitetiche che informano di sé queste due analisi completamente diverse. Vengono scritte alcune, statico contro dinamico, conservazione contro rivoluzione, meccanicismo contro vitalismo, uniformità contro diversificazione, razionalità contro sentimento, compiutezza contro incompiutezza, allegorismo contro simbolismo. Da una parte vi ha messo David, avete riconosciuto sicuramente l'incoronazione di Napoleone, dall'altra parte il sonno di Fusley, che è l'artista che affronteremo oggi in maniera molto rapida. Quindi noi abbiamo una situazione, un contesto dove da un lato c'è una ricerca della bellezza ideale, neoclassicismo, una bellezza universale che si riferisce a delle regole fisse e immutabili a canoni certi che vengono tratti dal mondo classico, perché si ritiene che il mondo classico sia un esempio di perfezione, quindi degno di imitazione. Winkelmann, per poter essere imitabili dobbiamo raggiungere la perfezione del mondo classico. Dall'altra parte abbiamo una bellezza individuale, perché le emozioni, i sentimenti sono individuali e quindi quello che si analizza è la natura e addirittura il pittoresco, il sublime, ma anche il terribile e il brutto diventano funzionali alla trasmissione di un'idea, perché nel momento in cui io devo trasmettere un sentimento il brutto può essere il deforme, può essere più efficace di qualsiasi figura idealizzata. Quindi noi abbiamo evidentemente nel mondo romantico la ricerca di atmosfere crepuscolari, sanguigne, oscure e di soggetti e di tematiche sicuramente ambigui, sicuramente più oscuri. Negli anni 80 del 700 questo artista che si chiama Johann Eirich Fuseli si reca a Roma. La sua ricerca è una ricerca nuova che si basa sull'autonomia dell'immaginazione, si basa sul sogno, sull'incubo, ma soprattutto si basa su una nuova declinazione del sublime che si attaglia evidentemente ai monumenti classici, ai monumenti antichi. L'opera che voi vedete, Cereberry, ma l'artista commosso dalla grandezza delle rovine antiche ci dice questo, cioè Fuseli nel vedere, nell'osservare a Roma le rovine antiche, l'archeologia antica anziché essere, provare alcun piacimento e ammirazione come gli artisti neoclassici che imitano la classicità, prova quello che è il mistero, l'inquietudine, la commozione, lo sconvolgimento che gli dà la storia nell'idea della fragilità delle sorte umani, proprio nel passare della storia, la grandezza di questi imperi che si dissolve nel tempo. D'altra parte se noi facciamo un confronto molto rapido fra due dipinti che hanno un soggetto simile, il giuramento dei Confederate surrutili di Fuseli e il giuramento di Lorazzi che abbiamo già affrontato con dovizia dei particolari di David, vediamo proprio la distanza enorme di due artisti che però è la distanza di due epoche, di due sensibilità, di due temperamenti opposti. Da una parte la chiarezza compositiva, la divisione in settori, la nettezza della linea, le campiture chiare, certe, le sfumature limitate, diciamo, la gamma cromatica, anche questa molto chiara, e un'euritmia della composizione, della differenziazione anche dei personaggi e dei voli dei personaggi, e questo è David. Dall'altra parte invece abbiamo una situazione completamente diversa, un fortissimo verticalismo, un sotto in su molto spinto, molto accentuato, un'ambientazione fumosa e indistinta, un cielo evocativo, questo cielo corrusco che si squarcia con la luce, che è la luce divina, che è la luce della speranza che può disperdere le tenebre, che in questo caso rappresentano la tirannia asburgica, contro la quale i tre cantoni di Urie, Schwitz e Unterwalden si confederano per resistere appunto al nemico. E qui c'è proprio l'idea che la deformazione formale lineare, anche proprio delle proporzioni con questa visione di sotto in su, e questi volti che se vogliamo sono potenti, possenti ma anche in parte caricaturali, servono più della compostezza e della ricerca di una bellezza ideale di matrice greca per trasmettere appunto emozione, passione, perché qui si sta parlando di figure potenti, molto espressive, che vengono appunto rese con pennellate breve, molto dense, sommarie, fuse, carichissime di colore e con effetti cromatici evidentemente, fusivi, caldi, effusivi, che non troviamo nella chiarezza compositiva e strutturale dell'arte neoclassica. Evidentemente questi sono eroi moderni, quelli di Fuseli, che non si interessano di trasmettere la serenità, diciamo, per la consapevolezza della propria giustizia nell'affrontare il sacrificio, come gli orazzi, per assolvere un dovere nei confronti della patria. Qui si sta parlando della passione, della speranza, dell'emozione, del sentimento, anche del terrore, della paura, prima dello scontro e della battaglia. Quindi la pittura diventa una pittura sempre più visionaria e sempre più oscura. Lo vediamo nel 1779, Heinrich Fuseli si trasferisce definitivamente in Inghilterra, comincerà a lavorare su soggetti sempre più oscuri da questo punto di vista, Shakespeare, o pensiamo per esempio all'illustrazione del paradiso perduto di Milton, dove si esalta la componente eroica della ribellione di Satana nei confronti di Dio. Qui siamo proprio ad un contesto, ad un mondo, anche da un punto di vista dell'analisi, della ricerca, della moralità, completamente diverso dal mondo neoclassico. E vediamo un esempio di questa differenza nelle due versioni, entrambe nel 1781, dell'incubo, perché si parla evidentemente dell'incubo, della visione onirica che si presta perfettamente proprio a dare l'idea degli aspetti più superstiziosi, spettrali dell'immaginario popolare, con la bianchezza, il candore, la purezza di questa fanciulla che però nel sonno si abbandona a una forma di erotismo perverso, a una forma di masochismo, una purezza che viene in qualche modo macchiata dalla deformità, dalla mostruosità, dalla deformazione della mente. Vedremo nella prossima lezione con Goya, che il sonno della ragione genera mostri e questa evidentemente è parte dell'estetica per i romanti.